Possiamo dire lo stesso? No, lo so, lo so, oggi sei bello! Allora, parliamo di campioni che l'hanno resa così importante a livello mondiale, poi si sono ritirati. È divertente proprio perché si chiude questo ciclo di tramiche e vuoi. Andare a 1.40, non deve essere una gara così divertente. Sono abbastanza allineate, nel momento in cui escono le formazioni ufficiali o se è una quota, ma noi che credibilità abbiamo con i nostri amici in chat? Ma in via Kenya non la gioco, ti vuoi sapere? Fognini, esatto. Vogliamo... Vissimo, torniamo al bilancio. Tanti anni perché sono passati quattro e tu sai benissimo che quando passano quattro anni... Cioè, fermogli perché chi si fosse collegato... Vantologie, davanti a tutti. Passa 1.22, giusto? Non passa 1.22, ultima nel girone. 10 capitano, sonne è un po' così. Ok, quando c'è la... Luca perché voglio sentire le formazioni e poi andiamo a vedere le quattro. Il nostro campo di qualità può fare la differenza. Assolutamente. Daniele, secondo te questa sfida per il prof sarà pannaggio della... Allora che? Allora sì. Sono, insomma, i soliti noti. Ehm, ho scelto. Del bel traete. Cazza traete ma anche il portafoglio pieno. Ti l'hanno... L'hanno venduto. Tipo vincolato, credo. Come si chiama, hai detto? Manasia. Salta, invece. Live! Ciao!